Ciao, io sono Dammi, io ho candidato questa volta per la regione Lombardia, questa volta io ho candidato per tutti voi, per chi cittadinanza italiana come me, allora per la regione Lombardia è tantissimo, provincia Milano, voi possono votare per me, quando dopo ho votato io che cosa faccio? Come oggi io ho anche una donna, qui c'è tante donne, però io vengo da Sri Lanka, adesso ho 23 anni in Italia, in cittadinanza italiana, però mia vita, mia carriera è 38 anni in Italia, allora io ho educato, io ho laureata, però io prima ho lavorato come domestica, adesso lavoro come impiegata, una fabbrica, comunque io cucinare, stirare, lavare, pulire una volta, però adesso sono io una coca, però le nostre donne, anche i nostri bambini, i nostri ragazzi, che educati, laureati, per noi un giorno Milano vuole diventare tutti noi per economia, per Milano, per venire, per inguadagnare, per l'educazione per il nostro cervello, allora noi abbiamo maestri, ingegneri, avvocati, architetti, eccetera, eccetera, un sacco di cose, non lo so, immigrati, chi è diventato italiano, Italia, soprattutto Milano c'è tantissima gente, allora io ho donna molto solare, molto simile, io ho sempre aiutato 38 anni in Milano, aiutato per staglieri, immigrati, soprattutto per tutti immigrati, anche italiani, anche non italiani, allora noi facciamo vivere insieme con un paese, Milano, era grande Lombardia, tanti grandi, allora noi uniti, mi votate, dopo votate con me lavoriamo, con i nostri italiani, per l'economia per Milano devi sviluppare, perché io amo Italia, io amo soprattutto Milano, veramente in Milano c'è un sacco di gente bellissimi, generosi, noi come educati, una volta noi non ci vogliamo andare avanti, adesso Milano, Italia da sempre giovani andare avanti, chi qua è educato, come andavano anche i nostri figli, lavorare, studiare, università, laureati, però come noi immigrati che diventati italiani, non c'è posto per andare a lavorare. Carta per elezioni, poi, per favore, se volete, se piace, per parte dei figli, mi scrivi il mio nome, dammi, votate, classe, buonasera. Grazie. 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 Grazie.